Decreto 80 da rivedere? Questo quanto sostengono alcuni rappresentanti del PD regionale. Tra loro il vittorioso sindaco di Frascati, Stefano Di Tommaso. Il Consiglio di Stato, come già anticipato nei giorni scorsi, ha infatti dato ragione al TAR, confermando la sospensiva per il trasferimento del pronto soccorso a Marino. Il Consiglio di Stato ha dato ragione a Frascati, il pronto soccorso resterà a Frascati, quindi un decreto 80 secondo lei da rivedere? Assolutamente sì, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del 7 luglio che decretava l'illogicità del decreto 80 per quanto riguardava il trasferimento del pronto soccorso e non solo, ma di ben 63 posti letto di specialità. Io credo che sia necessario, come è stato detto anche da esponenti regionali del Partito Democratico, tra cui Brunastore e Sterino Mantino, che necessariamente la Presidente Polverini deve rivedere questa scelta che la giustizia amministrativa non ritiene giusta e coerente. Qui chi tenta di mettere in contrapposizione Frascati e Marino non avrà nessun tipo di ragione. Decida la Polverini, decidano le strutture regionali sulla necessità di prevedere per l'ospedale di Marino interventi di altro tipo. Il decreto 80 stabiliva chiaramente in un allegato, in una nota che bisognava trasferire il pronto soccorso di Frascati e 63 posti letto a Marino. Su questo ci sarà poi ovviamente il pronunciamento in merito nel 23 novembre prossimo venturo, ma io sono sicuro, siamo sicuri, fra l'altro non è una battaglia solo da città di Frascati. Bisogna ricordare che i sette sindaci di tutto il distretto RMH1, quindi chiaramente bi-partisan, sindaci del centro sinistra e del centro destra e non solo, gruppi consigliari da città di Frascati ed altri cittadini sindacati, avevano detto chiaramente dell'illogicità e della follia di questa scelta che fra l'altro determinerebbe, lo ha detto chiaramente il rettore Laura dell'Università di Tor Vergata rispondendo a una mia lettera in questo senso, determinerebbe il collasso totale del pronto soccorso di Tor Vergata. Soddisfatto per questo risultato il consigliere regionale PD Bruno Astorre. Le tarre prime e poi il Consiglio di Stato hanno ribadito per il momento a livello di sospensiva, poi entrano nel merito, ma insomma tutto ci fa credere che anche nel merito la decisione molto ovviamente sarà la stessa, che la chiusura del pronto soccorso di Frascati è sbagliata, quindi non verrà fatta, deve rimanere il pronto soccorso a Frascati, nulla vieta uno di aprire o di riaprire anche il pronto soccorso a Marino o di fare a Marino una struttura tipo un polo di servizio oncologico o qualsiasi altra cosa che valorizzi appieno il presidio ospedaliero di Marino. Con Di Tommaso e Astorre abbiamo poi affrontato il tema San Raffaele di Velletri, un tema molto scottante visti i 257 licenziamenti previsti per i dipendenti della struttura, nonostante l'accordo di luglio del gruppo con la Regione Lazio prevedesse altro. Io sono accanto ai lavoratori, già l'ho fatto, fra l'altro io sono un sindaco con una disabilità, comprendo benissimo che cosa significa intervenire, ridurre i posti di riabilitazione, mi auguro che anche in questo ci sia una revisione da parte della Regione. C'è un'altra vicenda che tiene alta l'attenzione sui castelli romani che è quella della San Raffaele, 257 lettere di licenziamento a 30 e 60 giorni inviati. I dipendenti di Velletri non vogliono la chiusura di quella struttura, visto anche il declassamento dell'ospedale di Velletri. Sì, su Velletri sembra che si stia addensando ogni nube ed ogni temporale, non vorrei che questo fosse una ripercussione dell'amministrazione del colore politico, dell'amministrazione comunale del governo Velletri, che non è in sintonia con la Regione. Io spero di no, perché questa è la sanità, il diritto alla salute dei cittadini, il posto di lavoro non può essere merce di scambio. Una cosa è sicura, quando a luglio fu fatto l'accordo con il gruppo Angelucci, il gruppo Angelucci nell'accordo con la Regione aveva salvaguardato il livello occupazionale. Cioè loro comunque, nonostante le problematiche che ci sono alla struttura di Velletri, aveva chiuso l'accordo salvaguardando i livelli occupazionali. Per questo c'è stata anche la relazione della Polverini, perché comunque i licenziamenti tradiscono quell'accordo. Quindi io chiedo sia alla Presidente di mettere in atto tutte le azioni necessarie della Regione per salvaguardare il San Raffaele, e sia anche al gruppo Angelucci di rispettare quanto è stato concordato con la Regione. Concordata era anche l'apertura di Montecompadri? Sì, concordata anche l'apertura di Montecompadri, lì so che l'Ase sta facendo le verifiche, credo che insomma sono fiducioso che tutte le verifiche possano andare a buon fine, ma Montecompadri non può sostituire in tutto Velletri, il presidio del San Raffaele di Velletri. E comunque, ripeto, ci deve essere una salvaguardia dei livelli occupazionali. Quindi voi chiederete che Velletri resta aperta? Se è possibile, sì.